Anche Israele questo lunedì paga il suo tributo alla guerra. Cinque soldati di Zahal sono stati uccisi, uno nel sud della striscia, quattro centrati da un colpo di mortaio alla frontiera con Gaza. Il totale delle perdite di Zahal ascende dunque ad almeno 48 persone. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu, cosciente dello shock sull'opinione pubblica interna dopo ogni soldato caduto, ha ripetuto. L'ho già detto, ci dobbiamo aspettare una lunga operazione. Continueremo a lottare con determinazione per raggiungere il nostro scopo, quello di proteggere le nostre forze armate, i nostri cittadini, i nostri figli. Oltre alla difesa, Tel Aviv ha sempre detto di voler distruggere i cunicoli attorno a Gaza. Servono anche per aggirare l'embargo israeliano, ma gli uomini di Zahal sono soprattutto convinti che servano ad approvvigionare Hamas di armi. Per questo gli israeliani continuano a farli brillare.